Raffaele Buono, Presidente Confesercenti Pozzuoli. Negli ultimi mesi si è constatato un inaspirsi di episodi, di furti e rapine negli esercizi commerciali, soprattutto del centro storico. Sì, stiamo assistendo nell'ultimo mese a un'escalation per quanto riguarda i furti nelle attività commerciali. Possiamo contare fino adesso, nell'ultimo mese, 5 furti con scasso, solo nel primo centro storico. Proprio che ci sono molti altri anche fuori da questa cinta. Oltre agli scassi abbiamo avuto anche tentativi di furto, quindi dobbiamo sommare a questi anche altri 4-5 tentativi di furto. Questo nell'arco di un mese. Quindi è una situazione molto preoccupante, i commercianti non stanno dormendo di notte e qualcuno di noi addirittura scende con la propria macchina per verificare che non ci siano problemi nella sua attività. Lei in qualità di rappresentante dei commercianti ha richiesto un incontro con le istituzioni? Sì, sono stato personalmente a parlare con il dirigente di pubblica sicurezza il quale gli ha sposto il problema, anche se lui non era già a conoscenza. E dire la verità, si è impegnato a intensificare sempre con le sue possibilità perché sappiamo i problemi che investono le forze di polizia per la mancanza di personale, di macchina a disposizione. Però si è impegnato a dare una maggiore assistenza principalmente di notte per quanto riguarda la zona commerciale. E di interessare anche i carabinieri di questa situazione. Hai parlato del problema anche con l'amministrazione? Ho fatto un passaggio anche col sindaco al quale gli abbiamo esposto il problema e lo stesso si è impegnato a fare urgentemente un incontro con le forze di polizia locali per rispondere a questa escalation di furti. Speriamo che prendano provvedimenti perché per me sia una situazione molto tragica. Anche perché la sorveglianza si sa nei negozi di abbigliamento e principalmente in questo periodo perché i negozi arriva alla merce prima dell'estate e quindi ci hanno i depositi pieni. Già a partire da fine maggio sicuramente la tensione e i motivi di furto diminuiranno. Quindi chiediamo una maggiore sorveglianza proprio in questo periodo. Quindi aprile e maggio.